Piccioni del cazzo presentano Il necrofilo di Gabrielle Wittkop 12 ottobre. Le ciglia grigie della bambina proiettano un'ombra grigia sulla sua gota. Ha il sorriso ironico e scaltro di chi la salunga. Due boccoli spenti le inquadrano il volto, discendono sino agli smerli della camicia sollevata sino alle ascelle, e che svela un ventre di quel bianco-azzurrognolo tipico di certe porcellane cinesi. Il monte di Venere, particolarmente piatto e liscio, risplende debolmente sotto la luce della lampada. Lo si sarebbe ricoperto da un sottile strato di sudore. Le ho divaricato le cosce per osservarle la fessura sottile come una cicatrice, dalle labbra trasparenti di un malva pallido. Ma dovrò attendere ancora qualche ora, perché il corpo è ancora un po' rigido, un po' contratto, sino a quando il calore della stanza lo renderà molle come c'era. Attenderò, dunque. Ne vale la pena. È davvero una morta stupenda. 13 ottobre Ieri sera la piccola mi ha giocato un brutto tiro. Avrei dovuto diffidare di lei con quel sorriso. Mentre scivolavo sulla sua carne così fredda, così dolce, così deliziosamente stretta, che è possibile trovare solo nei morti, la piccola ha improvvisamente aperto un occhio. Traslucido come quello di una piovra. E con uno spaventevole borborigmo mi ha vomitato addosso un fiotto nero di un liquido misterioso. La sua bocca aperta, come in una maschera di gorgona, vomitava senza fine quel liquame il cui fetore invadeva tutta la stanza. L'imprevisto ha rovinato alquanto il mio piacere. Sono abituato a modi più educati, perché i morti sono puliti. Hanno già espulso i loro escrementi lasciando la vita, come ci si può liberare di un fardello infamante. Il loro ventre risuona cavo e duro come un tamburo. Hanno l'odore sottile e penetrante del bombice. Sembra salire dal cuore della terra, dall'impero in cui le larve muschiate si torcono tra le radici. In cui le lamine di mica hanno lo splendore dell'argento e del ghiaccio. Là dove sgorga il sangue dei futuri crisantemi, tra la torba polverulenta, le paludi sulfure. I morti hanno l'odore del ritorno al cosmo, dell'alchimia sublime. Perché nulla è più pulito di un morto, e lo diviene sempre più con il trascorrere del tempo, fino alla purezza finale della grande bambola d'avorio, dal sorriso silenzioso, dalle gambe eternamente aperte che è in ciascuno di noi. Ho impiegato più di due ore per pulire il letto e lavare la bambina. Questa piccola vomitatrice d'inchiostro putrido ha veramente la natura della piovra. Ormai sembra aver espulso tutti i suoi veleni, così compostamente distesa sulle lenzuola. Il suo sorriso falso. Le sue piccole mani dalle unghie piccole. Incessantemente una moscazzurrina, da dove sia venuta non so dire, si posa, si riposa sulle sue cosce. Questa bambina ha smesso ben presto di piacermi. Non è una di quelle morte da cui mi separo con rimpianto, con lo stesso dolore che si prova quando si lascia un amico. Aveva di certo un pessimo carattere, sarei pronto a giurarlo. Di tanto in tanto emette ancora un profondo borborigmo che mi ispira di fidenza. 14 ottobre. Stanotte, mentre ero in procinto di infilare la piccola in un sacco di plastica, per andarla a gettare nella senna nei pressi di Sevre, come faccio sempre, ha improvvisamente emesso un sospiro disperato. Dolorosa, prolungata, la S di Sevre si bilava tra i suoi denti, come se lei provasse un intollerabile dolore per l'incombente abbandono. Una pietà immensa mi ha serrato il cuore. Dunque non avevo reso giustizia al fascino umile e scontroso di quella bambina. Mi sono gettato su di lei, l'ho ricoperta di baci, pentito come un amante infedele. Sono andato a prendere una spazzola in bagno, le ho pettinato i capelli, ormai spenti e fragili. Ho frizionato il suo corpo con essenze, con profumi. E non so dire quante volte l'abbia amata, prima che la luce sbiancasse la finestra, dietro le tendine stirate. 15 ottobre. Il cammino di Sevre è il cammino di ogni carne e i sospiri della piccola vomitatrice non la salveranno. Ahimè. 2 novembre. Giorno fausto. Il cimitero di Montparnasse era stamane una splendida grisaia. L'immensa folla dolente si affollava nei viali tra il trionfo dei crisantemi e l'aria aveva il sapore amaro, snervante dell'amore. Eros e Thanatos. Tutti quei sessi sottoterra. Chi ci pensa mai? La notte cade presto. Sebbene sia la festa dei morti, non uscirò stasera. Ricordo. Avevo otto anni. In una sera di novembre, simile a questa, mi avevano lasciato solo nella mia stanza invasa dall'ombra. Ero inquieto perché tutta la casa era piena di gente che andava e veniva, di bisbigli misteriosi che, l'intuivo, avevano un rapporto con la malattia di mia madre. Sentivo soprattutto che mi avevano dimenticato. Non osavo accendere la luce, per quale motivo non so dire, e rimanevo seduto, muto e spaurito nel buio. Mi annoiavo. Per distrarmi e consolarmi, incominciai a sbottonarmi i calzoncini. Trovai quella cosa calda e dolce che sempre mi teneva compagnia. Non so più come la mia mano scoprì i movimenti necessari, ma fui subito travolto in un vortice di delizie, da cui mi parve che nulla al mondo avrebbe mai potuto farmi uscire. Ero infinitamente stupito di scoprire una tale riserva di piacere, nella mia stessa carne, e di sentire le mie proporzioni modificarsi in una misura che non avrei mai sospettato prima. Resi più rapidi i movimenti, e la mia voluttà sacrebbe ancora. Ma proprio quando un'onda che sembrava nascere dalle profondità delle mie viscere stava per sommergermi e sollevarmi al di sopra di me stesso, dei rapidi passi risuonarono nel corridoio, la porta si aprì di colpo, e la luce esplose. La nonna apparve sulla soglia, pallida, stravolta, e il suo turbamento fu così grande che non notò lo stato in cui mi trovavo. «Povero piccolo, tua madre è morta!» Poi mi afferrò la mano e mi trascinò via. Indossavo un vestito da marinaretto, la cui casacca era fortunatamente abbastanza lunga da coprire i calzoncini, che non avevo avuto il tempo di riabbottonare. La camera di mia madre era piena di gente, ma immersa nella penombra. Vidi al capezzale del letto mio padre inginocchiato che piangeva, con il volto affondato nelle lenzuole. All'inizio stentai a riconoscere mia madre in quella donna che sembrava infinitamente più bella, più alta, più giovane, più maestosa di come mi era sempre apparsa. La nonna si inghiozzava. «Abraccia la mamma un'ultima volta», mi disse, spingendomi dolcemente verso il letto. Mi chinai su quella donna meravigliosa composta nella sua veste bianca. Posai le labbra sul suo volto di cera. Le serrai le spalle tra le mie piccole braccia. Respirai il suo odore inebriante. Era il profumo dei bombici che il professore di storia naturale ci aveva consegnato a scuola e che conservavo in una scatola di cartone. Quell'odore sottile, secco, muschiato, di foglie, di larve e di pietre usciva dalle labbra di mia madre e si era già sparso tra i suoi capelli come un profumo. E all'improvviso la volutà interrotta riassalì la carne infantile con una violenza sconvolgente. Premendo contro l'anca di mia madre, mi sentii percorrere da una commuzione deliziosa, mentre zampillavo per la prima volta. «Povero piccolo», esclamò la nonna, che aveva totalmente frainteso i miei sospiri. 5 novembre. Comunemente si ritiene che quanti amano i morti siano affetti da anosmia. Per me non è così. Percepisco acutamente i più diversi odori, anche se, come tutti, mi sono abituato a quelli che più mi circondano al punto da non sentirli più. Può dunque darsi che l'odore del bombice impregni il mio appartamento senza che io me ne renda conto. Le donne delle pulizie non manifestano alcun turbamento quando riordinano la bottega d'antiquariato che ho ereditato da mio padre. Tutto al più, di tanto in tanto, qualche vago borbottio riguardo le anticaglie, ai nidi di polvere, agli oggetti fragili talmente brutti che si potrebbe comprarne di nuovi a minor prezzo. Ma nel mio appartamento, al quinto piano, il loro comportamento mi inquieta. guardano in tutti gli angoli, con un'aria di cauta diffidenza. Mi osservano sospettosamente e soprattutto annusano, ruotando gli occhi, l'odore che aleggia nell'appartamento. Annusano e riannusano, scavando nella loro memoria. E poiché non trovano nulla che gli somigli, annusano ancora. E una strana inquietudine si impadronisce di loro. Diventano allora come bestie braccate e fuggono via. Quando cerco di recuperarle, mi danno risposte vaghe con un'aria timorosa e scuotono la testa se propongo un aumento del loro compenso. Rimetto un annuncio sul giornale e la storia si ripete. Un giorno, una di queste donne ha osato domandarmi perché mi vestivo sempre di nero, pur non essendo in lutto. Un'altra, giovanissima e già obesa, di cui ho scordato il nome, è andata a dire in un negozio del quartiere che sembrava un vampiro. Sempre questa antica e aberrante confusione tra due esseri così radicalmente opposti, il vampiro e il necrofilo, tra il morto che si nutre dei vivi e il vivo che ama i morti. Non nego che dopo qualche giorno il profumo del bombice si trasforma in un odore come di metallo arroventato, che diviene sempre più acre sino a trasformarsi in un fetore di viscere. Ogni stadio ha il suo incanto, sebbene l'ultimo annunci la separazione. Ma non mi sarebbe mai passata per la mente l'idea di divorare la carne di uno dei miei amici, né di succhiare il suo sangue. Quanto alla portiera, ha smesso da gran tempo di stupirsi che io non abbia una amichetta. E poiché non mi ha mai visto neppure in compagnia di qualche amichetto, ha concluso che sono una specie di Giuseppe, un poveraccio. Tanto meglio. Ci sono verità che quell'anima semplice farebbe fatica a digerire. I miei piccoli amici dall'ano glaciale come la menta, le mie amanti squisite dal ventre marmorizzato di grigio, io li conduco di notte, con la mia vecchia Chevrolet, quando tutti dormono e di notte li riaccompagno al ponte di Sevres o a quello di Asnier. 3 dicembre. Stamane, mentre sbrigavo la corrispondenza, è entrato un cliente ponendomi una richiesta che mi ha turbato. Era un uomo di circa 40 anni, dal volto acceso, dalla calvizia incipiente, vestito come un avvocato o un dirigente. Ha guardato i mobili, le porcellane, i quadri, ma soprattutto gli oggetti curiosi, come se cercasse qualcosa. Poi, finalmente, avvicinandosi al mio tavolo, mi dica signore. Ha detto. Non ha per caso dei nezke particolari? È soprattutto a quelli di Koshimuramato che penso. Per un istante i nostri sguardi si sono incrociati. Quanti conoscono Koshimuramato, questo maestro del diciottesimo secolo, che, nel suo tellier di Kyushu, si consacrò esclusivamente ai nezke macabri. Morte sodomizzate da iene, succubi fellatori, scheletri masturbatori, cadaveri allacciati come nodi di vipere, fantasmi che divorano feti, cortigiane che si impalano sul fallo rigido di un morto. Mi spiace, ho risposto, ma generalmente coloro che possiedono opere di quel maestro esitano a disfarsene. Comunque, se lei vuole lasciarmi il suo indirizzo, potrei, nel caso trovassi qualcosa. Ha rifiutato seccamente, come se avesse capito che non gli avrei venduto mai e poi mai, capolavori simili. E infatti, i nezke di Koshimuramato, io li servo per me. Solo un necrofilo può collezionare oggetti simili, e quell'uomo mi incuriosiva. Preferisce ripassare? Ho insistito. Non abito a Parigi, ci vengo solo molto raramente. Ha salutato ed è uscito. Mi sarebbe piaciuto intrattenermi con lui sui nezke macabri. Dirgli qualche parola, sicuramente vana. Rivolgergli un sorriso d'intesa. Non per fare una nuova conoscenza, ma perché capisse che lo comprendevo. Nient'altro. I necrofili talvolta si riconoscono. Sono così rari. Ma non si cercano mai. Hanno definitivamente scelto l'incomunicabilità, e i loro amori trascendono nell'incomunicabile. Solitari, noi non rappresentiamo neppure il legame tra la vita e la morte. Non c'è legame. Perché vita e morte sono unite per sempre, indissolubilmente, come l'acqua mescolata al vino. Non ho potuto impedirmi di ridere, come per uno scherzo ben riuscito, estraendo dalla tasca un nezke che porto sempre con me. La statuetta non misura più di tre centimetri, e rappresenta due contadini grassocci che fornicano molto abilmente nelle orbite di un teschio. 4 dicembre. La visita dell'amatore di nezke mi ha fatto riaffiorare alla memoria i rari incontri che ho avuto con necrofili. Nulla di particolarmente interessante, a dire il vero. Ricordo, ad esempio, un funerale a cui partecipai quando avevo una ventina d'anni. Quella volta fu per convenienza, non per diletto, che partecipai alla cerimonia. Si trattava di un lontano parente il cui aspetto sgradevole e il cui carattere scontroso mi avevano privato di ogni desiderio di andarlo a vedere nella bara. Durante l'assoluzione il prete salmodiava, alcune donne si inghiozzavano. In quella piccola cappella privata l'aria era irrespirabile e il catafalco occupava quasi tutto lo spazio centrale. Il profumo dei fiori, dei ceri e dell'incenso ricordava vagamente quello del bombice. Ma accorsi quasi subito di non essere il solo a percepirlo. Mi trovavo in una minuscola cripta laterale immersa nella penombra. Ma non al punto da nascondere ai miei sguardi una copia del tutto banale, venuta lì, ne ero certo, anche se non so dirne il motivo, per il proprio piacere, sebbene i due fossero vestiti a lutto. Senza dubbio la musica, i canti funebri, il profumo di bombice avevano il potere di agire sull'uomo in modo specifico, perché sentì chiaramente che la compagna gli chiedeva se fosse eccitato. Usa una parola volgare, un termine da caserma, di una crudezza che mi turbò. Forse abbozzò anche un gesto, ma non ne sono certo. Sia che fossero troppo timidi per spingersi oltre in quel luogo, sia che preferissero l'intimità della propria stanza, i due abbandonarono in tutta fretta la cappella. L'abito nero della donna mi sfiorò passando. Lei aveva occhi lattiginosi e fissi come quelli di un cieco. Erano di certo due necrofili all'acqua di rose, e i loro gusti non si spingevano fino alla passione estrema. Ma ce ne sono altri che non arretrano davanti a nulla, e ricordo al riguardo un incontro sventurato che ebbi al cimitero di Montmartre all'incirca un anno fa. Vi avevano sepolto un'attrice che conoscevo personalmente, per averla avuta come cliente. Una donna di bellezza mediocre, piuttosto insignificante, che sembrava dunque non poter ispirare sentimenti estremi. Quando la seppi morta, la desiderai vivamente. Giunsi al cimitero sotto una pioggia torrenziale, che certo non avrebbe facilitato il mio compito. Forzai la capanna degli attrezzi da giardinaggio, come sono solito fare, per procurarmi una vanga. Opero sempre con una rapidità estrema. Al massimo in un'ora, grazie a una tecnica accuratamente messa a punto, scavo la fossa. Vi discendo. Forzo il coperchio della bara con una leva. Mi carico del morto. Risalgo. A quel punto non mi resta che trasportarlo sino all'autovettura, dopo aver superato l'ultima difficoltà, consistente nel lissare il corpo sopra il muro con l'aiuto di una corda. Quella notte la pioggia spaventosa ritardò l'esecuzione. La terra, imbevuta d'acqua, era pesante. D'altra parte i meteorologi avevano previsto che il cattivo tempo sarebbe durato una quindicina di giorni, e io non potevo attendere così a lungo. Quando risalì faticosamente dalla fossa viscida con il mio fardello, vidi un uomo seminascosto dietro una pietra tombale che mi osservava. La sua figura imponente, il suo collo tarchiato, si stagliavano nettamente nell'oscurità della notte. Fui assalito da una paura atroce. Quell'uomo mi avrebbe aggredito, forse ucciso, o più probabilmente denunciato. Senza più sapere quel che stessi facendo, abbandonai la salma e fuggi via in preda all'angoscia. Oltrepassai il muro con un balzo, e solo quando fui a casa riuscì a calmarmi a poco a poco. Ero certo di non essere stato seguito. Quell'uomo non poteva più nulla contro di me. L'indomani, la lettura del giornale mi procurò una amara sorpresa. Al cimitero di Montmartre era stato rinvenuto il corpo di un'attrice famosa, nudo, sventrato e orribilmente mutilato. La pioggia aveva cancellato ogni traccia. Dunque l'uomo rivoltante che mi aveva aspiato, si era appropriato del frutto dei miei sforzi. Che orrore! Coppiai a piangere per il dispiacere e la rabbia. 22 dicembre. Stamane sono andato a passeggiare nel cimitero di Vri, stranamente sperduto in un quartiere plebeo. Era incantevole sotto la neve, come un trionfo zuccherino. Osservando una vedova che ornava la tomba del defunto con un piccolo albero di Natale, mi è venuto da pensare a quanto siano divenute rare le donne in gran lutto, con veli neri fluenti, sovente bionde, che frequentavano le necropoli non più di una ventina d'anni or sono. Erano generalmente, anche se non sempre, delle professioniste che praticavano la loro arte dietro i monumenti di famiglia, con una mancanza di brio e di sincerità assolutamente deprimenti. Carne per vedovi. Primo gennaio. Ho festeggiato l'anno nuovo in buona compagnia, quella di una portiera della Rudevo Girard, morta ad embolia. Vengo spesso a conoscenza di particolari simili durante la sepoltura. Una vecchietta piacente, pur senza essere una bellezza, leggera da portare, silenziosa e morbida. Peccato che gli occhi le si siano infossati nelle orbite, come quelli di una bambola. Inoltre le hanno tolto la dentiera e questo le incava le guance, ma quando l'ho spogliata della sua orribile camicetta di nylon, mi ha fatto la sorpresa di due seni da ragazzina, duri, di seta, assolutamente intatti. Il suo regalo per il nuovo anno. Con lei l'amore è improntato a una certa calma. Non mi incendia la carne, anzi la rinfresca. Io, abitualmente così avaro del tempo che trascorro con i morti, un tempo che scorre rapidissimo, e che tento di sfruttare ogni secondo in loro compagnia, sanotti mi sono steso accanto a lei, per dormire qualche ora, come uno sposo accanto alla sposa, con un braccio sotto la sua esile nuca, una mano posata su quel ventre che mi ha donato qualche gioia. La piccola portinaia si chiama Marie-Jean Cholard, un nome che i fratelli Goncourt avrebbero di certo apprezzato. I suoi seni sono davvero notevoli. Avvicinandoli si ottiene un varco stretto, carnoso, infinitamente dolce. Le accarezzo lievemente i capelli grigi e sottili, tirati indietro, il collo e le spalle, tra cui sta seccando una bava argentata, come quella che lasciano le lumache. 11 gennaio Il mio sarto, un sarto che ha mantenuto i modi cerimoniosi d'altri tempi e si rivolge a me usando la terza persona, alla fine non ha potuto esimersi dal suggerirmi dei capi di vestiari meno tetri. Per quanto sia elegante, il nero è triste. Allora è proprio il colore che mi si addice. Perché io sono triste. Sono triste perché devo separarmi sempre da coloro che amo. Il sarto mi sorride nello specchio. Crede di conoscere il mio corpo perché sa bene come dispongo la mia virilità nei pantaloni e perché ha scoperto con stupore che i muscoli delle mie braccia sono sviluppati in modo abnorme per uno che esercita la mia professione. Se sapesse a cosa possono servire dei buoni muscoli, se sapesse che uso faccio della mia virilità, che porto a sinistra, come una volta ha avuto modo di annotare sul suo taccuino. 2 febbraio Una cliente ha fatto stamane un complimento davvero incantevole alla cassa panca di una nave portoghese del XVII secolo. Com'è bella, somiglia a una bara, e l'ha comprata. 12 maggio Mi è impossibile guardare una donna graziosa o un uomo affascinante senza desiderare all'istante che siano morti. Una volta, nell'adolescenza, giunsi a desiderarlo con passione, con furore. Si trattava di una mia vicina, una giovinetta alta, bruna e dagli occhi verdi, di 4-5 anni più anziana di me, che vedevo quasi tutti i giorni. Sebbene la desiderassi, non avrei mai osato neppure immaginare di sfiorarle una mano. Attendevo. Volevo la sua morte. E quella morte divenne per me il perno attorno a cui ruotavano tutti i miei pensieri. Dovro allora dire che bramavo ad un desiderio fervido e schiacciante al momento della morte di Morella? Sì, l'ho fatto. Più di una volta, al solo incontrare quella fanciulla, il cui nome era Gabrielle, sono piombato in un'eccitazione parossistica, che, peraltro, lo sapevo bene, sarebbe caduta nell'istante stesso in cui avessi osato un approccio. E così per ore e ore mi perdevo a configurare tutti i pericoli a cui sarebbe potuta soccombere. Mi dilettavo a rappresentarla sul lato di morte, immaginando con esattezza ogni particolare, i fiori, le candele, l'odore funebre, i riccioli spenti, le palpebre semichiuse sulle pupille rovesciate. Una volta, incontrandola casualmente sulle scale, notai una piega dolorosa all'angolo sinistro della sua bocca. Essendo giovane, innamorato e romantico, conclusi all'istante che aveva una segreta attrazione per il suicidio. Corsi a chiudermi nella mia stanza, mi cettai sul letto e mi abbandonai a voluttà solitarie. Davanti ai miei occhi chiusi vedevo Gabriele oscillare dolcemente appesa a un gancio del soffitto. Il corpo, rivestito da un abito di merletto bianco, ruotava all'estremità della corda, offrendo ai miei sguardi le più diverse prospettive. Il volto mi affascinava, sebbene fosse reclino e seminascosto dai capelli, che immergevano in un'ombra incantevole, la lingua enorme, quasi nera, che riempiva la bocca aperta come un getto di vomito. Le braccia di un bruno cupo, bellissime, pendevano dalle spalle moglie e disossate. I piedi scalzi rivolgevano la punta all'interno. Rievocavo questo fantasma tutte le volte che il mio desiderio lo esigeva, e a lungo seppe donarmi voluttà profonde. Poi Gabriele lasciò la città. Non vedendola più, finì per dimenticarla. E anche l'immagine che mi aveva donato così profonde gioie, a poco a poco si dissolse. 3 agosto. Henry, morto di scarlattina all'età di sei anni, ma io non contraggo mai alcuna malattia, è davvero un bravo ometto. Ha un corpo fatto per giocarci, fatto per goderlo, sebbene giochi e godimenti debbano limitarsi alle superfici esterne. Questo bambino è così stretto che ho dovuto rinunciare a delizie più profonde, per non ferirci entrambi. Ho tentato vanamente tutte le diverse tecniche che avevo avuto l'ingenuità di credere infallibili. Ma Henry è comunque succulento. L'interno delle sue cosci, leggermente concavo, permette un'unione quasi perfetta. Poiché malauguratamente è in uno stato di putrefazione molto avanzato, so che non potrò tenerlo con me a lungo. Così non lo risparmio, e mi concedo tra stulli nella vasca piena d'acqua calda, che però purtroppo, lo so bene, accelera la sua rovina. Le carni gli si fanno di ora in ora. Il ventre diviene sempre più verdastro, gorgoglia di crudeli flatulenze che esplodono in enormi bolle nell'acqua del bagno. C'è di peggio. Il volto gli si imbroncia, diviene estraneo a lui stesso. Non riconosco più il mio piccolo Henry. 7 agosto. Ieri sera mi sono congedato da Henry, il cui odore si era fatto insopportabile. Avevo preparato un bagno fortemente profumato, per poter stringere un'ultima volta contro il mio quel piccolo corpo putrescente. Henry mi ha riservato una sorpresa, perché i morti sono sempre imprevedibili. Penso ai seni di Marie-Jean, penso ad altri ancora. Mi ha finalmente permesso di penetrare nella sua carne tenera come cera fondente. È stato il suo modo per rendere più dolce il nostro Dio. L'ho asciugato, gli ho rimesso il pigiamino di felpa rosa che indossava al suo arrivo e gli ho pettinato le frange brune che l'acqua del bagno aveva reso quasi nere. L'ho fatto sedere accanto a me sull'auto, reggendolo con una mano, guidando con l'altra. Andavo ad agio, non avevo fretta da arrivare. Come mi accade sempre in questi viaggi, avevo il cuore pesante. No, non ancora, mi ripetevo. Ho attraversato la Senna a St. Claude, ma è stato solo all'altezza di Maison Lafitte che ho trovato il coraggio necessario. Sono tornato a in un lungo corteo di camion di orticolori. L'odore delle erbe schiacciate, i colpi di clacson, il bagliore dei fari. All'improvviso, nello specchietto retrovisore, ho visto il mio viso inondato di lacrime. 20 novembre. Non uscirò stasera. Non desidero vedere nessuno e vorrei tanto poter chiudere il negozio subito. Quattro anni fa, in questo stesso giorno, ho dovuto separarmi da Susanne. A quel tempo non tenevo ancora un diario, ma ora voglio scrivere, per riviverlo, il racconto del mio incontro con lei. Tutto ebbe inizio in un modo drammatico, pericoloso, e sin dall'inizio siamo stati minacciati insieme, uno dall'altra, uno per l'altra. Era una sera di novembre, dolcissima, un po' brumosa, e i viali erano resi scivolosi dalle foglie bagnate. Novembre mi reca sempre qualcosa di inatteso, sia pur preparato da sempre. Ero andato a cercare Susanne al cimitero Montparnasse. Attesa. Felicità anticipata, come ogni volta. Sapevo soltanto il suo nome, che aveva 36 anni, che era sposata, che non aveva professione. Ero particolarmente curioso di conoscerla. Tutto si svolse normalmente e non fece alcuna fatica a essarla sul muro. Era piccola e sottile. Credevo di dover fare solo una dozzina di passi lungo il boulevard Edgar Quinet per raggiungere la rue Huygens, in cui avevo lasciato l'auto. Ma probabilmente la nebbia mi aveva indotto in errore, e mi accorsi subito di essere uscito dal cimitero in un punto molto più lontano di quello che avevo previsto. Mi affrettai più che potevo, lieto che Susanne fosse così leggera, quando all'improvviso credetti che il cuore mi s'arrestasse. Un'auto con a bordo due poliziotti di ronda mi stava venendo incontro. Non andavano di fretta, ma mi sbarravano l'unica via di ritirata possibile. Già udivo lo spaventoso stridio delle ruote. Tenendo Susanne strettamente abbracciata, la spinsi contro il muro del cimitero. Per fortuna non indossava quegli orribili vestiti funebri che si mettono ai morti, ma un semplice abito di jersey e scarpe da città. Nello spaventoso stridio delle ruote, il fascio di una torcia elettrica ci illuminò le gambe, le gambe di una coppia che si sta abbracciando. Dietro di me il mondo stile, i poliziotti, la bestialità, l'odio. Davanti a me quella donna sconosciuta col volto rovesciato nell'ombra del mio, quella donna di nome Susanne, e per il cui amore stavo rischiando la mia distruzione. Mi parve che quell'istante non dovesse finire mai. Poi, finalmente, una voce che già si stava allontanando verso raspaie, gracchiò. Merda, proprio un posto adatto per degli innamorati. Mi occorsero non so quanti secoli per superare quella paralisi in cui il terrore mi aveva impietrito come in un incubo, e per riprendere il cammino sino alla mia vettura. Sebbene non fossi così stupido da stimare il valore delle cose sulla base della difficoltà di conquistarle, già sapevo che quella prova era la contropartita di felicità indicibili. Susanne, una piccola borghese dai capelli biondi accuratamente pettinati, dalla camicetta a poire, sotto un vestito dal taglio classico. Le avevano tolto l'anello nuziale. Forse, proprio in quel momento, lo portava al marito, annientato dal dolore, oppure indifferente, tra le piante verdi, la credenza e il televisore in un qualche appartamentino nella rue de Sèvres. Rue de Sèvres. Pont de Sèvres. Non mi parve particolarmente graziosa. Probabilmente non l'era mai stata. Però aveva un'aria gentile, con quel suo nasino tirato all'insù, con quelle sue sopracciglia alzate in un immenso stupore. Perché la morte doveva averla colta di sorpresa, forse tra le compere al bon marché e la preparazione di una torta alle mele, falciandola con un colpo secco, un infarto o qualcosa di simile. Non mostrava tracce di lotta né di rassegnazione. Niente. Nient'altro che lo stupore di essere morta. Susanne aveva una pelle morbida, unghie a mandorle. Togliendole la camicetta, potei notare le ascelle accuratamente depilate. Indossava biancheria intima di crepe de ciné, di una qualità assolutamente superiore a quella del vestito. La qualcosa testimoniava una dignità, un pudore femminile degni di nota. Aveva sempre rispettato al proprio corpo, era evidente, per una sorta di escesi. Ma un'ascesi amabile, cortese, clemente. Susanne, il giglio. Si diviene puri quando si varca una soglia sconosciuta. Lei aveva varcato quella della morte. Fin dal primo istante avevo intuito quel che Susanne avrebbe rappresentato per me. Così, sebbene facesse molto freddo, chiusi il riscaldamento, aprì la finestra per creare quelle correnti d'aria insidiose che raffreddano una stanza in un istante, e per ore. Preparai del ghiaccio, allontanai da Susanne tutto quel che avrebbe potuto nuocerle. Tranne me, purtroppo. Tornai da lei, impaziente come uno sposo novello. Il suo delizioso odore di bombice mi inebriava. La portai sul letto. Con mani tremanti le tolsi il reggiseno, le mutandine. L'impazienza mi strappava gemiti. La tensione del desiderio non mi permetteva più di dilazionare l'istante del possesso. Mi gettai su quella morta incantevole. E senza toglierle le giarrettiere e le calze, la presi con un'intensità, con una violenza mai provata prima. Il mattino dopo scesi dalla portinaia. Le pregai di fare in modo che nessuno mi disturbasse. Accampai, come pretesto, un lavoro urgente e delicato. Il restauro di un quadro preziosissimo. Cosa che peraltro non faccio mai io. Sembro credermi, ma solo a metà, e mi lanciò una strana occhiata. Mi isolai con Susanne. Nozze senza musica, senza fiori, in una stanza glaciale in cui ardevano lampade. Non risposi al telefono. Una o due volte, malgrado il mio divieto, suonarono alla porta. Col cuore impazzito, trattenendo il respiro, immobile nel vestibolo oscuro. Ero pronto a tutto per difendere il mio tesoro. Circondai Susanne con sacchetti di ghiaccio. Passai di frequente acqua di colonia sul suo volto meravigliosamente intatto, a eccezione di quella grassa lucentezza sugli zigomi, di quella stretta delicata che affila al naso dei morti. Tre giorni dopo il suo arrivo, Susanne aprì all'improvviso la bocca. Come per dire qualcosa. Aveva graziosi denti regolari. Non ho già detto che i morti riservano sempre delle sorprese. Sono così buoni i morti. Per quattordici giorni sono stato indicibilmente felice. Indicibilmente, non assolutamente. Perché la gioia sempre si accompagna per me al dolore di saperle effimere. E ogni felicità ha fatalmente in sé il germe della propria fine. Solo la morte, la mia, mi libererà dalla disfatta, dalla ferita che ci infligge il tempo. Con Susanne sperimentai tutti i piaceri senza esaurirli. La ricoprì di carezze. Le leccai teneramente il sesso. Lo divorai avidamente. Vi affondai. Vi riaffondai senza tregua. Perché io non privilegio le delizie di Sodoma. Allora Susanne lasciava sfuggire un leggero sibilo, che si sarebbe detto di ammirazione o gentilmente ironico. Un sibilo che sembrava non finir mai. Un dolce lamento interminabile. S. S. Come Sèvre. Susanne, il mio bel giglio. La gioia della mia anima e della mia carne. Pian piano si marmorizzava di macchie violacee. Raddoppiai i sacchetti di ghiaccio. Avrei voluto tenere con me e Susanne per sempre. La tenni per quasi due settimane. Tormendo appena. Nutrendomi con quel che trovavo nel frigo. Bevendo troppo, talvolta. Il ticchettare della pendola, gli scricchiolii del legno, avevano assunto una qualità particolare, come ogni volta in cui la morte è presente. Essa è il grande matematico che conferisce il valore esatto ai dati del problema. Man mano che il tempo passava, che la polvere posava un velo di cenere su tutto, cresceva la mia disperazione di dover lasciare Susanne. Mi venivano le idee più folli. Soprattutto una non mi abbandonava mai. Avrei dovuto, mi dicevo, portare Susanne all'estero. Ma dove? Sin dalla prima sera. Ancora prima di averla fatta mia amante. Avrei dovuto farla imbalsamare e così mi sarebbe stato possibile non lasciarla mai. Sarei stato felice. E invece ero stato folle. Folle e malvagio. Non avevo avuto l'accortezza di superare, di differire il mio desiderio. Avevo perduto per la volgarità del mio sesso un corpo che avrebbe potuto dar gioia per sempre ai miei sensi e al mio cuore. Era troppo tardi ormai. Il pentimento e il dolore mi stringevano in una morsa spaventevole. Ma non appena mi ero detto che era troppo tardi, che avevo rovinato tutto, nuovamente mi precipitavo ai piedi della mia amante, ricoprendo di baci le sue gambe su cui la peluria cominciava a riapparire. Il desiderio mi assaliva con maggior forza del dolore e in un istante mi ritrovavo abbracciato a Susanne, la mia bocca alla sua, il mio ventre sul suo. La passione e il dolore mi dominavano al punto che non mi lavavo più, non mi radevo più, e gli specchi mi restituivano l'immagine di un uomo livido, irsuto, con le occhiaie bordate di rosso. Seduto al capezzale di Susanne, con una bottiglia a fianco, avvolto in coperte per lottare contro il freddo, mi sembrava ad essere nella mia tomba. Udivo appena i rumori del mondo, che non riuscivano quasi più a superare le tapparelle abbassate, tranne talvolta il fragore di qualcosa di pesante che cadeva, o il suono stridente dei bidoni delle immondizie, trascinati sul marciapiede all'alba. L'ultima sera ho lavato Susanne, le ho rimesso la biancheria fine e il vestito borghese che due settimane prima le avevo tolto in preda all'euforia. Poi l'ho portata all'auto, a volte in una coperta. Lasciandola scivolare nella senna, ho lanciato un grido, e udendolo, mi è parso che risuonasse da un altro mondo. Era come se mi strappassero il cuore, se mi strappassero il sesso. La senna aveva accolto il suo corpo, inondato per due settimane dal mio sudore, ingozzato dal mio seme, dalla mia vita e dalla mia morte, unite nella sua carne. In lei entravo nell'ade, con lei mi rotolavo nel limo oceanico, mi aggrovigliavo tra le alghe, mi pietrificavo nei calcari, circolavo nelle vene dei coralli. Rientrato a casa, mi gettai sul letto, che sapeva di carogna. Ma addormentai di colpo, afferrato brutalmente da un sonno mortale, cullato dagli stessi flutti neri, mare tenebrarum, che cullavano Susanne, l'amore mio. Primo dicembre. Non mi pesa il mio lavoro. Questi avori cadaverici, queste livide ceramiche, questi oggetti appartenuti ai morti, questi mobili fatti dalle loro mani, questi quadri che hanno dipinto, questi bicchieri in cui hanno bevuto quando la vita era loro dolce. Davvero, il mestiere d'antiquario è una condizione necrofila pressoché ideale. 30 dicembre. Ho visto, nella libreria vicina, una stampa galante del XVIII secolo, una monaca posseduta da un monaco, che mi ha riportato alla memoria un buffo episodio accaduto una dozzina d'anni fa. Mi ero recato a Melon per affari, che riuscì a sbrigare in molto meno tempo di quanto avessi previsto. Avevo preso il treno e mi restavano a disposizione due ore piene. Sapevo che nella cappella delle Fille de Saint-Thomas de Villeneuve, precisamente nella galleria Nord, si trovava una circoncisione di gentile bellini. Poiché quell'ordine non è di clausura, la cappella è aperta al pubblico. Il padrone del ristorante in cui avevo pranzato si era dilungato in racconti spaventosi sull'isteria e sull'insigno e malvagità di quelle monache nei confronti delle orfanelle che ospitavano. Il convento si trovava alle porte della città. Faceva un caldo soffocante, presagio di tempesta, e tutto sembrava sprofondato nel sonno. Il cancello del giardino era spalancato, come la porta della cappella in cui entrai senza esser visto. Lo scalone delle gallerie iniziava immediatamente dopo quella porta, sulla destra, e mi affrettai a salire. Trovai subito la circoncisione e ne fui desolato perché era stata restaurata verso la fine dell'Ottocento da un volgare imbrattatele. Aveva rifatto le vesti ai personaggi, aveva modificato le architetture, aveva ricoperto con drappi da tappeziere i vani delle finestre, alle quali un tempo si intravedeva la campagna veneziana. Era uno spettacolo straziante. Prima di ridiscendere mi appoggiai alla balaustra della galleria, da cui potevo, con una sola occhiata, abbracciare l'intera cappella. Nella navata centrale troneggiava un palco su cui era adagiata una monaca, temporaneamente lasciata sola dalle sorelle che dovevano vegliarla. Sebbene fosse morta, quella monaca dal ventre gonfio come un otre, con un volto che sembrava uscito dalla matita di Domier, mi ispirò una profonda repulsione. Indossava l'abito del suo ordine e le sorelle le avevano cinto il capo con una corona di grandi rose di carta, per indicare che era vergine. Di tutti i morti che ho visto, fu la sola a non ispirarmi né simpatia né tenerezza. La malvagità trappelava da tutta la sua persona. Osservai quello spettacolo con disappunto, unicamente stupito per la frequenza con cui il necrofilo incontra la morte, l'alcolizzato la bottiglia, il giocatore le carte. Nell'istante stesso in cui facevo questa riflessione, un ometto con un lungo naso e l'aria devota, entrò nella cappella e si prosternò dinanzi all'altare, facendosi il segno della croce con l'acqua benedetta. Poi si accorse del catafalco e parve elettrizzato. Proprio allora esplose un formidabile tuono e una pioggia torrenziale prese a tamburellare con violenza, come se volesse penetrare nella cappella. Dopo una breve esitazione, quell'ometto si precipitò verso la porta, la richiuse, e ugualmente fece con quella della sacrestia. Poi, protetto da quel diluvio da ogni inattesa intrusione, si guardò a destra e a sinistra, per assicurarsi di essere solo. Ma non alzò gli occhi verso la galleria. Rassicurato, si gettò sulla settuagenaria vergine cristiana, e dopo aver estratto un membro sottile, rosso e bulboso come quello dei sateri glielo ficcò dentro ansando. Prese martellate furiosamente la monaca, che a ogni colpo lanciava acuti squittii, come un topo in calore, mentre la corona di rose, che le era scivolata sul naso, sussultava in cadenza. L'ometto non era certo un necrofilo inveterato, tutt'al più era uno di quelli che ritengono non sia mai troppo tardi per assestare qualche buon colpo. Solo l'occasione l'aveva reso ladro, per così dire, e avrebbe potuto benissimo sfogare il suo improvviso bisogno con una capra. Scalpitando, saltellando e urlando come se gli stessero tagliando le orecchie, l'ometto portò a termine la sua cavalcata tra gli squittii della monaca e i colpi di tamburo dei tuoni celesti. Poi si riabbottonò con aria contrita, raddrizzò la coroncina di rose artificiali, risistemò l'abito della sposa del signore, e sgattaiolò via furtivamente. Attesi ancora qualche minuto, e sentendo che il temporale si era allontanato, uscì anch'io. La scena mi aveva divertito per la sua aria di fablio agreste. Mi avevo scorto una graziosa allegoria del mondo cristiano travolto dal paganesimo. Quanto al sacrilegio, è da gran tempo che non ci credo più. 7 gennaio. Si parla del sesso in tutte le sue forme, tranne una. La necrofilia non è tollerata dai governi, né approvata dai giovani contestatori. L'amore necrofilo, il solo che sia puro, in quanto anche l'amore intellettualis, questa grande rosa bianca, aspira a essere corrisposto. Nessuna contropartita per il necrofilo innamorato. Il dono che fa di se stesso non suscita alcuno slancio. Periodicamente, il più delle volte dopo le mie spedizioni, la stampa popolare aizza l'opinione pubblica. Si spinge persino a formulare ipotesi ridicole, evocando gli studenti di medicina che un tempo si procuravano gli oggetti da dissezionare al cimitero di Clamar, o i resurrezionisti dell'era vittoriana. Un pennaiolo particolarmente in vena non ha esitato a parlare di orge antropofagiche, qualcosa come i piaceri dell'Orkominski. Comunque, non basta essere timidi come lo sono io, bisogna anche essere prudenti. Ho spesso l'impressione che mi osservino, che mi spino. Soprattutto le donne di servizio, le portiere, i commercianti del quartiere. E i poliziotti, certo. Soprattutto i poliziotti. 15 marzo. Erodoto riferisce che le donne nobili, dopo la loro morte, non sono immediatamente consegnate agli imbalsamatori. E lo stesso accade per le donne più belle e più famose. Le si affida loro solo dopo tre o quattro giorni. Si vuole così evitare che gli imbalsamatori ne abusino. Il più antico dei riferimenti sparsi nella cronaca umana su questa passione inoffensiva, che alcuni definiscono perversa. Ma quei tre o quattro giorni, che ingenuità. 10 maggio. Ieri uno dei miei clienti, un giovane e affascinante pianista, ha cercato di sedurmi. Stavamo prendendo il tè seduti sul piccolo e stretto sofà impero della biblioteca. Ho preso tra le mie le sue belle mani pellegrine. E le ho restituite al loro padrone sorridendo, come avrei potuto rifiutare una coppia di uccellini. Oh, Lucien, lei dunque non ama i ragazzi. Io che credevo, ma sì, certo, li amo. E amo anche le donne. Non potevo ovviamente dirgli, amerei molto i suoi occhi rovesciati, le sue labbra mute, il suo sesso glaciale, se solamente lei fosse morto. Sciaguratamente ha il pessimo gusto d'essere ancora in vita. Ho ipocritamente aggiunto, ma non sono libero e non vorrei creare complicazioni. Mi spiace. Mi ha creduto con profonda cortesia. 7 giugno. Non passa giorno senza che ricordi Suzanne, i suoi seni dalle larghe areole beige, il suo ventre cavo, sospeso come una tenda tra le punte delle anche, il suo sesso, il cui ricordo basta a ridestare il mio. Con quale conchiglia marina si è ormai fuso l'avorio delle sue ossa? 1 luglio. Il soggiorno di Mademoiselle d'Ivry mi ha totalmente esaurito e non ho altro desiderio che dormire solo. Ho scoperto la sua tomba per caso, un giorno che ero andato a passeggiare al cimitero per distendermi lo spirito. Una tomba fresca, ancora priva del nome. Mi domandai chi potesse contenere e mi ripromisi di tornare nel cuore della notte. Sono per me le più propizie, in cui era stesa una donna che condussi facilmente a casa. C'è nei miei amori un istante ineffabile, ed è quello in cui scopro il volto del compagno che il destino mi ha assegnato, in cui mi chino avidamente, su quei tratti che ben presto mi diverranno familiari. Doveva avere tra i 40 e i 45 anni, ma è vero che la morte ringiovanisce molto. Era una donna del popolo, probabilmente una sarta, perché il suo indice era picchiettato da mille punture d'ago. Notai anche che la pelle delle mani era troppo larga per le sue ossa. Spessa, come imbevuta d'acqua, fasciava le falangi in pesanti pieghe. Era bruna come una gitana. Le palpebre, i capezzoli, il sesso, avevano quel bistro profondo e leggermente violaceo di certi funghi o delle ortensie colpite dal gelo. Opulenti ricci di un lucido astracan le ricoprivano le ascelle, il pube. Ma soprattutto aveva dei baffi straordinari. Due virgole nere, sottili e flessuose le inquadravano la bocca. Vi scendevano fino alle gote, crudeli come quelle di un Gengis Khan. Una donna eccezionale, certo. E potei ben presto accorgermi che quello non era il suo unico tratto originale. Era vergine, come scoprì nell'istante stesso in cui smise di esserlo. Aveva temuto oppure odiato gli uomini. O aveva preferito le donne. Con quei baffi come lo sverzino di una frusta. Con quella parte straordinariamente virile della sua femminilità. Una mandorla dura e forte, sovrastante la piega delle ninfe. La vergine di Vri aveva soprattutto una particolarità sconcertante. Si sarebbe detto che si prendeva nella morte la rivincita della sua lunga astinenza. Non ho mai incontrato un sesso come il suo, che viveva in quella morta di una formidabile vita, autonoma e indecifrabile. Talvolta si dilatava come un pesce palla, per cui mi sembrava di perdermi in un abisso. Talvolta mi azzannava di colpo, mi stringeva, mi succhiava con schiocchi ingordi. Altra particolarità inquietante. Il mio seme spariva in lei, senza lasciare tracce, misteriosamente assorbito da quella donna bibace, da quella pianta carnivora. Mi lasciai tentare per numerosi giorni dall'impetuosa vergine di Vri, sebbene con paura, come se, falsa morta, aprendo di colpo gli occhi, nutrita della mia stessa sostanza, potesse balzarmi addosso per divorarmi. La sua smania cresceva con il trascorrere del tempo, ma per fortuna il rassicurante odore di bombice aumentava in proporzione. Una sera la mia amante aprì improvvisamente la bocca, come un tempo aveva fatto Susanne, ma lo fece maleducatamente, con uno sbadiglio leonino, scoprendo una dentatura irregolare e trascurata. Un'altra volta, allorché per sfuggire alla minaccia del suo sesso, cercai di aprirmi il cammino nella via di dietro. Mi lanciò contro una serie di disconvenienze che mi scoraggiarono. Pur senza attribuire un peso eccessivo a simili incidenti, preferisco comunque che non si verifichino. Ma la vergine di Vri aveva anche lati seducenti, e sono ben lungi dall'aver dimenticato i piaceri avuti in dono. Tuttavia, le cose più dolci hanno una fine. Signorina, la ringrazio della sua visita e della sua compagnia. Lei è davvero incantevole, ma tutti gli artifici della sua femminilità non potrebbero estrarre da me quel che si è esaurito. Assolutamente svuotato, mi chiedo se lei non sia una succube. 24 luglio Ho incominciato a rimpiangere la mia vergine di Vri, la mia morta vivente, la cui carne palpitante sapeva così bene stringere la mia e suggere il mio seme. Qualcosa che si incontra una sola volta nella vita, una sola volta nella morte. Ma l'inconia di non conoscere neppure il suo nome. Magia che mi sfugge. Mai più. Non ho apprezzato sufficienza questa donna. Sono forse stato ironico, di quella ironia che è solo il miserabile mantello dei poveri che si vergognano. Ho forse dimenticato, dimenticare significa rifiutarsi di soffrire. Ho dunque dimenticato che ogni volta mi innamoro. Un giorno stavo casualmente camminando dietro due studentesse tedesche e ho sentito che una diceva all'altra perché ogni volta mi innamoro perdutamente. Potrei dire la stessa cosa di me. Anch'io purtroppo, anch'io. La verità è che sono stato così vile da vergognarmi di quella strana vergine baffuta, della mia principessa kirghisa, dalla vagina retrattile e parlante. Certo che l'amavo. Sempre che possa usare certe parole, perché sembra che il necrofilo, così come appare nelle nebbie dell'immaginario popolare, non abbia il diritto di dirle. Un dolce vento qualche giorno fa. Un piccolo morto di 18 o 20 anni, purtroppo martoriato da un incidente, ma sereno, fraterno. Un amico a cui ho dato nome Pelle di Pesca, benché si chiamasse diversamente, e la Pelle di Pesca in questione, ben lungi dall'essere la sua, non fosse che un additivo veicolare. 2 settembre. Un'avventura particolarmente penosa, del tutto in attesa. Mi ero recato nella foresta di Fontainebleau perché il tempo era splendido e non avevo assolutamente voglia di rimanere chiuso nella botteglia. Mi fermai per una sosta a Barbizon. Passando davanti a una piccola panetteria, vidi una scretta, chiuso per lotto. I miei vestiti neri, il mio aspetto di forestiero, avevano suscitato l'attenzione di una vecchia appoggiata coi gomiti al davanzale di una finestra. Pensò di certo che fossi venuto per le esequie. Non si sbagliava in fondo. Io vengo sempre per delle esequie, per una perpetua festa mortuaria, per delle nozze funebri. La morte mattiera da lontano, attraverso sconosciuti labirinti. Lei arriva troppo tardi, mi disse la vecchia. È stato seppellito ieri pomeriggio. Un uomo così bello, che disgrazia. Il volante del suo furgoncino gli è entrato proprio qui e indicò l'epigastrio. Ringraziai la donna e me ne andai. Avevo letto il nome sull'insegna del negozio. Pierre, mi ripetevo andando. Pierre, un uomo così bello. Ricordo quel pomeriggio come attraverso una nebbia. Avevo perduto la nozione del tempo. Misuravo la mia attesa non per mezzo dell'orologio, ma della luce. La luce. La mia nemica. Perché mi hanno chiamato Lucien? Io, il Lucifugo. Trovandomi separato dalle mie occupazioni consuete, le ore mi parvero più lunghe. Mi addormentai nell'automobile e al risveglio vidi con stupore che erano già le due del mattino. Sarei incapace di descrivere il cimitero di Barbizon, sicuramente banale, con le sue corone di perle e i suoi angeli piangenti. Trovai agevolmente la tomba più fresca, su cui erano ammassati i fiori, come un mucchio di fieno. Non feci fatica a rimuovere la terra così morbida, né ad aprire la cassa che però mi parve eccezionalmente grande. Un uomo così bello, cielo! Era alto almeno due metri ed era massiccio in proporzione. Probabilmente all'ospedale avevano cercato di salvarlo perché uno stretto bendaggio, macchiato nel centro da una purulenta acquosa, fasciava il suo torso monumentale ricoperto di pelli neri e folti. Non avevo mai visto un morto così calmo, con quel suo viso da romano un po' greve, con quella pelle bianca e dolce come la farina, con cui per anni e anni aveva impastato il pane dei vivi. Capii subito che mi sarebbe stato impossibile sollevare Pierre. Con pena infinita riuscì comunque a estrarre in parte il suo corpo dalla bara. Ho provato vergogna di lettarmi con lui proprio lì, nell'ostilità del mondo aperto, tra i suoi pericoli. Perché la clandestinità esige muraglie che proteggano dal soffio della terra, tende che fermino lo sguardo degli astri. La testa di Pierre urtava, ai miei colpi, il legno della parete laterale. Il suo torso aveva lo stesso movimento tortuoso di certi alberi torturati, mentre la sua figura si piegava bruscamente sul bordo della bara e le sue lunghe e forti gambe si dibattevano. Ma accorsi che Pierre aveva spesso accordato da vivo quel che mi donava da morto. La cosa non mi torbò, ma ero rattristato dall'incongruità della postura, dalla strettezza della tomba, dall'improvvisa corsa di un topo. Prima di lasciare Pierre lo risistemai come meglio potei nella bara e nuovamente lo ricoprì col sudario. Lo si sarebbe detto un Cristo nel sepolcro, tra le braccia di un empio Giuseppe d'Arimatea. È stata l'unica volta in cui non ho offerto a uno dei miei funebri amici la dolcezza del mio letto, la calma della mia stanza. 12 gennaio Jérôme, 15 anni, studente, domiciliato in Avenue Henry Martin, cimitero di Passy, ore 14. Andrò a vedere. 14 gennaio C'era una gran folla alla sepoltura di Jérôme, a cui ero andato per poter ritrovare più agevolmente la sua tomba. E anche per diletto, per curiosità, per simpatia. Freddo secco molto gradevole. Tutta la crema del sedicesimo sestiere in cappotti di Kashmir ed Astrakhan. Mi trovai a fianco una vecchia dama con un cappello viola, che non smetteva di blatterare. Due giorni di una malattia che si ritiene inoffensiva, poi crack. Aveva appena fatto uno splendido trimestre a Chanson de Célie, sapesse il terribile dolore dei genitori, il povero Charles e soprattutto la povera Zosù. Ah sì, perché lei deve sapere che chiamava sempre sua mamma Zosù, e non col suo vero nome. Si adoravano in un modo inconcepibile. Ma lei fa parte della famiglia, ha conosciuto Jérôme? Risposi che ero il suo professore di latino, e la vecchia riprese implacabilmente il suo monologo. I genitori. Lui, magrissimo, elegantissimo, perduto nel suo dolore, come in una contrada remota. Lei, una giovane donna dai lunghi occhi azzurri gonfi di lacrime, dalla cascata opulenta di capelli castani, dissimulata a stento dal velo nero. Un tizio obeso, intabarrato in un cappotto foderato di pelliccia, ha letto un'orazione funebre imitata da Bossuet, con voce falsamente commossa. Era il professore di latino, quello vero. Nel cuore della notte parcheggiai l'auto nella Place Petrarch, e ancora una volta tutto si svolse senza incidenti. Si direbbe che Hermes, dio dei ladri e guida dei morti, sia il mio protettore. Mi ispira mille astuzie, conduce senza inconvenienti gli oggetti della mia passione sino al mio letto. Jérôme, è alto come me, ma così magro che con le mani potrei quasi imprigionargli i fianchi. Non sa che farsene delle sue lunghe braccia, né come disporre le lunghe gambe, più di noccolato di un puledro. Il petto, il viso affilato, i capelli, hanno un sapore di sale, come se fossero stati bagnati di lacrime. Ma il suo sesso, prima che lo purificassi con la mia saliva, che lo asciugassi con le mie carezze, aveva uno spaventevole gusto di lavanda. Guardo Jérôme. Lo faccio riemergere per un istante dall'impero infernale. Il suo bagno privato s'apre sugli alberi del viale. È in stile pop. Lui l'ha voluto così. E Zouzou fa tutto ciò che vuole. È sempre in disordine, con tutti quei flaconi che dimentica di chiudere e i grandi saponi inglesi sparsi dappertutto. Ha persino un rasoio elettrico nascosto nel fondo di un cassetto, per paura che Zouzou lo trovi, perché si metterebbe a ridere. Lei entra tranquillamente, senza neanche bussare. Mentre si lava i denti, vede nello specchio del lavabo i suoi lunghi occhi azzurri che sorridono. Gli pizzica le natiche, gli scompiglia i capelli, gli bacia il collo tra le scapole, là dove incominciano le vertebre, poi fugge via di corsa. Lui li insegue, la bocca piena di dentifricio, lancia un asciugamano che colpisce con un rumore sordo la porta che Zouzou appena richiuso. A gambe larghe sul bidet, Jérôme si lava con il sapone della lavanda, lungamente, molto lungamente. Quando chiude gli occhi, vede una donna ai cui capelli castani incorniciano uno spazio vuoto in cui egli non riesce a situare un volto. Forza la sua immaginazione, cerca quel viso con un'ostinazione da insetto. All'improvviso gli sembra di garmirlo, ma non ci riesce. Non ci riesce. 15 gennaio. Stanotte ho spinto la poltrona della mia stanza di fronte al grande specchio veneziano che mi è così caro. Ho posto Jérôme sulle mie ginocchia, mordevo la sua nuca dai riflessi d'argento, proprio tra le spalle, là dove sono certo che Zouzou per gioco lo baciava. Nelle felci grigie dello specchio, tra la brina dei suoi racemi, vedevo Jérôme danzare come una grande marionetta sotto i colpi del mio desiderio. 16 gennaio. Jérôme Hieronymus. Nel suo giardino delle delizie, Hieronymus Bosch ha dipinto due giovani che giocano con dei fiori. Uno di loro ha piantato delle fresche corolle nell'ano del compagno. Questa sera sono andato a cercare delle orchidee dal fioraio per ornare il mio amico Jérôme, le cui carni si armonizzano alle sfumatore verde rame, brune e violace di questi fiori. Le une e gli altri possiedono lo stesso splendore carnoso, quasi vischioso. Entrambi hanno raggiunto quello stadio trionfante della materia al suo culmine, all'estremo compimento di sé stessa, che precede l'effervescenza della putrefazione. Steso sul letto, Jérôme sembra dormire, con il sesso affondato nel calice di un'orchidea il cui liquore l'inonda, mentre una cascata di infiorescenze bluastre sfuggono dai lividi scuri che marmorizzano la sua piccola rosa segreta. Credevo che Jérôme avesse gli occhi della madre, ma quando ho alzato la molle palpebra, l'iride è apparsa di un verde profondo, di un bruno olivastro. Il colore delle vischiose pareti delle orchidee. 20 gennaio. Jérôme restituito alla notte. Jérôme restituito agli abissi. Quale fiume stai discendendo? Ebro Battello. E io piomberò presto nella morte, come Narciso nella sua immagine. 15 aprile. Stamane ho trovato l'appartamento invaso da grosse mosche azzurre. Da dove sono venute? La domestica, che era presente, è andata a comprare dell'insetticida in drogheria. Uno spettacolo orribile. I corpi ronzanti ricoprivano il tappeto. Li si schiacciava dappertutto. Entra un odore chimico invadeva l'appartamento, rifiutandosi di uscire dalle finestre aperte. La domestica mormorava tra i denti oscure imprecazioni, che si concludevano tutte con un'allusione minacciosa. Non è normale. Anche questa doveva capitare. È proprio il colmo. Non mi piacciono questi scherzi, per niente. E così via. Un'altra che mi lascerà. 23 aprile. Ho trovato in Tristan Corbière una felice espressione. Godere come un impiccato. 2 maggio. Sono ormai quattro giorni che mi sono separato da Genevieve e dal suo piccolo. Se qualcuno mi avesse veramente visto e riconosciuto, come avevo temuto, sarebbero già venuti poliziotti. Tuttavia, queste ultime ore sono state davvero faticose. Ero andato a cercare la giovane al cimitero di Pantene, un luogo desolante. Ignoravo di cosa fosse morta, per cui il mio stupore fu enorme nel trovarla con un neonato tra le braccia. Non ho apprezzato per nulla quel quadretto familiare. Genevieve era davvero graziosa. Doveva aver sofferto molto, e non soltanto nel suo povero corpo lacerato, ma soprattutto nella sua anima, perché il suo viso aveva quella tristezza inconfondibile di color che se ne vanno senza averlo voluto. Mi piaceva molto la sua pelle trasparente. Mi piacevano i suoi grandi palli di seni. Il suo sesso era impraticabile, una piaga orribile, che evitai di guardare. Rovesciavo dolcemente il corpo di Genevieve e scivolavo nell'ombra del suo culo superbo. Godevo, come un impiccato, in quel labirinto estraneo alle trappole e alle sventure della procreazione. Di tanto in tanto mi divertivo a carezzare il neonato, peraltro sgradevole, con quel suo viso rugoso, quelle sue membra rachitiche, quella sua testa enorme. Il dolce gelo della sua carne, il fortissimo odore di bombice che emanava, mi ispirarono ben presto giochi più precisi. Mi posi quel piccino senza nome sulle cosce, con la testa sulle ginocchia e le gambe piegate ad angolo retto, con i piedi che toccavano quasi il mio petto. Mi insinuai semplicemente tra le sue cosce, accorgendomi però che non ne traevo alcun piacere. Quella carne mi sembrava scipita come una minestra senza sale. Stoltamente accelerai i movimenti, giungendo a una conclusione che non mi raccò alcun godimento. Qualcuno ancora più stolto di me avrebbe potuto evocare il nome di Gilles de Ré non tanto per il bambino, quanto per la posizione scelta e favorevole allo sfogo sul ventre di colui che peraltro non era stato mia vittima. Non amo Gilles de Ré, uomo dalla sessualità imperfetta, eterno ragazzino che si ostinava a suicidarsi negli altri. Gilles de Ré mi disgusta. Una sola cosa è sporca, la sofferenza che si può arrecare agli altri. Non ho tenuto, Genevieve, il suo piccino a lungo con me, ma la storia a un seguito, o meglio, con un po' di sfortuna avrebbe potuto facilmente avercelo. Lasciai cadere il sacco in cui li avevo deposti entrambi, abbracciati, affinché nulla potesse separarli, sin da quando le loro ossa si fossero perse nei flutti, divenendo porose e leggere, come pietra pomice, sbriciolandosi e dissolvendosi per rinascere nel calcare delle stelle marine. Nell'istante in cui l'acqua si richiudeva su di loro, udì i porte sbattere nel silenzio della notte, richiami levarsi. Sull'argine degli uomini correvano verso la mia direzione. Senza dubbio ero stato visto da operai della fabbrica del gas. Mi davano la caccia come dei cani dietro una lepre, e come una lepre fuggivo a zigzag lungo le vie di Lévalois, immerse nella notte. Talvolta le loro urla si avvicinavano pericolosamente, poi all'improvviso sembravano aver perso le mie tracce. E li sentivo interrogarsi, lanciarsi comandi, incitamenti. Le mura dai manifesti lacerati, le fabbriche abbandonate, mi scivolavano a fianco, in un ritmo di sogno. Non sapevo dove fossi, correvo follemente in quel dedalo di strade ostili. Temevo soprattutto di infilarmi in qualche via chiusa, e all'improvviso, il miracolo in cui non avrei mai sperato. La mia vecchia, buona Chevrolet. La carrozza di tutti i miei matrimoni, accuratamente posteggiata a fianco del marciapiede. Mentre mettevo in moto, ho avuto ancora il tempo di intravedere un gruppo di uomini, sbucati all'improvviso da un angolo della strada, che gesticolavano follemente sotto la luce di un lampione. Ancora una volta salvo. 15 giugno. È già da più di un mese che mi trovo a Napoli, ben felice di aver lasciato Parigi per qualche tempo. Ho affidato la mia bottega a un gerente che già in precedenza l'aveva condotta molto bene, quattro anni fa, quando mi ero recato a Nizza. A dire il vero, l'inseguimento notturno di Le Valois mi aveva particolarmente turbato. Fiutavo il pericolo. E poi desideravo ardentemente rivedere Napoli, la città più macabra. Napoli, la bocca dell'Ade. Lì giocano con i morti come con grandi bambole. Li imbalsamano, li seppelliscono, li disseppelliscono, li lavano, li pettinano, gli incastrano un po' le rosse e verdi nelle orbite, li pongono in nicchie murarie, li drizzano in bare di vetro verticali, li vestono, li svestono. E non ve nulla di più bizzarro di queste mummie rigide nelle loro vesti eccentriche. Con parrucche di stoppa, un mazzo di fiori di cera polverosa tra le dita. A San Domenico Maggiore le regine d'Aragona, vertucce di un cuoio bruno, raggrinzite nei loro sepolcri. Il sacrestano solleva il coperchio con una mano e tende l'altra per la mangia. Mercurio è anche Hermes. Ma tutte queste mummie sono troppo disseccate per piacermi e infiammarmi i sensi. Manca loro il movimento interno delle verdi metamorfosi. Napoli. Meno di cent'anni fa ai funerali si portavano ancora i cadaveri lungo le strade, come nella Roma antica. Oggi si incontrano solo le grandiose carrozze della morte, con lanterne gigantesche e pennacchi di struzzo neri. 2 luglio. Intermezzo all'improvviso. Avevo appena visitato il di Santa Chiara e volendo scendere verso Corso Umberto, imboccai quella fantastica scalinata, il pendino Santa Barbara, descritto da malaparte e in cui abitano soltanto delle nane. Orribili, deformi, spesso calve, tenendo talvolta in braccio bambini che sembrano fatti di cenci grigiastri. Le nane vivono qui, schiamazzanti, gesticolanti. Grossi insetti cavernicoli. Occupano i bassi, queste stanze senza finestre che si aprono a pian terreno sulla strada, tutte uguali, con quel loro grande letto coperto di nylon rosa, la televisione e le immagini sacre. Davanti a uno di questi bassi, un gruppo di nane occupava il marciapiede con alti lamenti, mentre altre si affollavano più compostamente nell'antro scuro in cui bruciavano lampade come in piena notte. La morte era passata di lì e sentii quel tuffo al cuore che conoscevo così bene. Mi fermai e le nane si affrettarono a informarmi che una di loro, la buona amica Teresa, era appena salita al cielo. Chiesi di potermi unire a loro per rendere a Teresa gli onori funebri della veglia. Accettarono con un'eccitazione indescrivibile, anche tenuto conto che ci si trovava a Napoli. Teresa, a giudicare dal suo volto cinereo e sciupato, poteva avere sia trenta che sessant'anni e i suoi capelli erano un insieme di ciuffi indefinibili. Le avevano fatto indossare una specie di veste da prima comunione che le risaliva sino alle orecchie perché era gobba. Molte delle sue compagne si affannavano intorno a lei, abbarbicate al letto. La toccavano, le carezzavano una gota, le sistemavano una ciocca dei suoi indicibili capelli, le lisciavano una piega della veste in un mostruoso cicaleccio da voliera. Veni a sapere che Teresa era stata investita in pieno da un'automobile mentre attraversava la via sedile di porto, rimanendo squartata proprio nel mezzo delle cosce, perdendo tutto il suo sangue prima di poter essere soccorsa. È vero che una nana deve aver ben poco sangue in corpo. Le amiche si erano agitate su di lei, lanciando urla, dando vani consigli. Ma Teresa era già esangue quando l'autoambulanza era arrivata. Allora l'avevano ricondotta a casa, l'avevano lavata, pettinata, achindata. L'avevano vestita di bianco perché, così dissero, Teresa era morta vergine. Vergine o no, confesso che ridestò il mio desiderio, tanto più vivamente, perché era da gran tempo che più non mi accadeva. Per fortuna, poiché il tempo era incerto, portavo un impermeabile sul braccio e mi fu così possibile dissimulare il mio stato. Mi chiedevo come avrei potuto sottrarre Teresa in un quartiere così popoloso e senza l'aiuto della mia automobile. Concepivo mille piani, uno più assurdo dell'altro, ascoltando distrattamente le chiacchiere delle nane. Il calore era soffocante. Mezzogiorno era vicino. Le voci si facevano più strascicate, più impastate nell'aria vitrea. Odori di fritti alitavano sino al letto della morta e stuzzicavano le nane. Vi fu come un'esitazione, come una tregua nelle loro lamentazioni. Una suggerì di preparare il caffè. Intervenni, proponendo un pranzo funebre nel ristorante vicino, che avrei offerto io. E solo dovevano scusarmi se non mi fossi unito a loro. Sarei rimasto a vegliare la morta, affinché potessero festeggiarla pranzando tutte insieme. Accettarono riconoscenti l'invito. E quando un quarto d'ora dopo tornai dal ristorante in cui mi ero recato per sistemare ogni cosa, le trovai già drappeggiate in scialli neri e con cappelli di foggia singolare antica, ornati di fiori di iris di crespo. Mi accolsero con gridolini di gioia, poi si allontanarono lungo il pendino come uno stormo di cornacchie. Ero solo con Teresa. Chiusi la porta e lentamente, tranquillamente, mi slacciai la cravatta. 16 luglio. Ho appena visitato a Capodimonte il parco con i tritoni muscosi, il lungo castello giallo che dietro i ciuffi di palme ospita una meravigliosa pinacoteca. La morte di Petronio di Pacecco de Rosa. Una composizione piena di movimento, ma da cui traspira l'indifferenza. Colori splendidi, limpidi, ma nessuna intuizione del soggetto. Perlomeno non quella che sento mia. E proprio qui, a Napoli, nella pace della sua villa, Titus Petronius Arbiter, un nobile, un poeta, un uomo condannato, si è fatto aprire le vene dal suo medico. Attorniato dalle sue concubine e dai suoi schiavi greci che gli insinuavano la lingua nella bocca e gli carezzavano i capelli resi lisci dal bagno, ha visto cancellarsi il loro sguardo dietro un velo, perché il suo stesso sguardo si spegneva come una lampada. Ha udito le loro tenere parole ritrarsi verso un altro pianeta, perché lui stesso stava per lasciare la terra. Sostenuto dalle loro braccia, ha probabilmente avuto ancora il tempo di misurare la propria solitudine. Rovesciato sotto la dolcezza del loro sorriso, ha sentito quelle mani chiudersi sul suo membro ormai inerte, la sola forza che zampillava ancora da lui, raccolta in un corno di corallo rosso, il cui arco perfetto univa il suo pugno al bacile d'argento. Ha sentito il nulla invadere il reticolo delle sue vene, la notte penetrare nella sua carne, dai lobi forati delle orecchie, sino alle lunghe falangi piegate dal peso degli anelli, mentre le danzatrici incollavano la vulva sul suo corpo come conchiglie sullo scafo di un vascello, e le dita dei suoi efebi esploravano i suoi anfratti segreti. Nuotando nel suo bagno come nel liquido materno, Titus Petronius Arbiter sentì la vita sfuggirgli con la stessa dolcezza con cui un tempo era lui venuta. È così che si dovrebbe morire. 5 agosto. Catacombe di San Gaudisio. Quelle di Parigi non sono nulla al confronto. Bisogna venire a Napoli per vedere un così grandioso spettacolo. Barocche, fantastiche. Le catacombe di San Gaudisio si estendono su un'area immensa, e si direbbe persino che certe gallerie dimenticate le colleghino a quelle di San Gennaro. Le donne vengono qui per implorare la grazia delle anime del purgatorio, come ingenuamente chiamano le forze infernali, e vi praticano il culto delle ossa. I crani, spesso lucidati a cera, adorni di parrucche, collocati su piccoli altari privati da fedeli, che peraltro sono loro totalmente stranei, costituiscono l'oggetto di un florido commercio da parte dei guardiani. L'atmosfera di queste catacombe pagane, perché sono precisamente questo, è assolutamente irreale. Le preghiere mormorate, le ombre femminili che alla luce delle candele proietta sulle pareti, gli scheletri e le mummie nelle loro nicchie, l'odore delle ossa e delle offerte dei fedeli, formano un quadro indescrivibile. Ne fui subito affascinato. Quando mi noltrae in una galleria deserta, la mia attenzione fu all'improvviso attratta da una donna in preghiera. Era piccola e grassa come lo sono tutte le donne di qui, però mi parvi ancora abbastanza giovane. Con un ginocchio appoggiato sulla sedia e i gomiti sullo schienale, le reni sporgenti, il collo teso, aveva avvicinato il suo volto a una testa di morto posato sulla cimasa, sino a toccarla. Il profilo della donna e quello del cranio si stagliavano nettamente contro i bagliori rossastri di una lampada. La bocca dell'una incollata al sorriso dell'altro. La donna era riuscita a insinuare nella mascella del morto la lingua, e la vedevo in controluce leccare, frugare tra i suoi denti, inarcata, puntuta come un corno di corallo, antico simbolo fallico che i napoletani usano come omulet. La donna leccava con quella lingua che intuivo straordinariamente dura e carnosa gli incisivi del morto. La faceva scivolare su tutta la dentatura, come una mano che accarezzasse la tastiera di un pianoforte. Oppure l'affondava profondamente per frogare i molari dall'interno e la volta del palato. Concentrata nel suo piacere, non m'aveva sentito arrivare. L'osservai per qualche istante. Poi lei avvertì la mia presenza, e si raddrizzò lanciando un grido. «Non ha niente da temere da me», le dissi. «Ma la prego di ricominciare quel che stava facendo». La donna mi guardò con aria sospettosa. Doveva avere una trentina d'anni, probabilmente apparteneva alla piccola borghesia. Forse era la moglie di un commerciante o di un funzionario subalterno. Le ripetei l'invito, e il riflesso di un'idea che probabilmente le parve brillante le illuminò al viso. «Se qualcuno ci vedrà, dirò che lei mi ha costretto a farlo». Rimasi turbato, lo confesso, da quel volgare spediente. Ma lei, senza aggiungere nulla, era già tornata al suo cranio, gli occhi semichiusi, la lingua protesa. La bizzarria dello spettacolo e del luogo, unita all'euforia che mi aveva colto da quando ero entrato nelle catacombe, mi causò quell'effetto che un necrofilo può legittimamente attendersi in situazioni simili. Desideravo quella donna, sebbene fosse viva. Le alzai la sottana nera e, abbassando le mutandine di cotone, scoprì un largo posteriore levigato e diafano come la cera delle candele l'intorno. Toccandolo mi parve ancora più liscio. Feci scivolare la mano nella sua fessura, e quando la ritirai, avevo sulle dita un liquido opalino che mi sconcertò. I morti non secernono nulla di simile, e che forse mi avrebbe disgustato se il suo odore non avesse evocato la profondità del mare. Immagine, fratello, della morte. E così, il pensiero che ogni carne porta in sé il fermento della sua distruzione, rese più acuta la voglia che avevo di quella donna. Ma il desiderio mi abbandonò nell'istante stesso, in cui tentai un contatto più profondo, come un castello di carte, che crolla quando lo si sfiora. Lei si voltò verso di me, il viso contratto dalla collera. Dirò che lei ha tentato di violentarmi. Non so perché il dispetto l'inducessi a minacciarmi così. E comunque mi allontanai in fretta. Nel mio appartamento a Posillipo mi sentì di colpo colmo d'amarezza e di desolazione. Vorrei vivere e vorrei morire. Ma mi è vietata una cosa, eppure l'altra. È forse questo l'orto degli olivi? 12 settembre Non so perché, ma stamane, facendomi il nodo alla cravatta, mi è riapparsa per un istante l'antica immagine della mia vicina di quando ero adolescente, di quella Gabrielle che mi piaceva tanto immaginare impiccata, con le pupille rovesciate in un'estrema estasi. 16 ottobre Sono tentato di credere che Ecate abbia posato su di me il suo benevolo sguardo. La morte mi colma, instancabile dispensatrice dei miei piaceri. E se spesso sono incompleti, questo dipende unicamente dai miei limiti. Molto tempo fa mi ossessionava il pensiero della felicità che mi avrebbe donato la presenza simultanea di due corpi. E forse mi spinsi sino a concepire qualche tableau vivant, qualche natura morta. Una possibilità, peraltro, in cui non credevo realmente. Un sogno dimenticato, rinabissatosi nella notte in cui si dissolvono i sogni. Sono stato davvero stolto a non credere al miracolo. Desidero stasera annotare esattamente tutti i particolari dell'avventura, per riuscire a ricordarli meglio. Perché tutto si è svolto così rapidamente e in modo tanto inatteso che sento la mia memoria in pericolo. È vero che sempre, in qualche modo, avverto una parte di me, se non il mio intero essere, sotto l'imperio di una oscura minaccia, o come sotto la minaccia di una minaccia. Ero andato a Sorrento, e sulla strada del ritorno mi fermai a bere del vino a Vico e Quense, in un albergo in cui sono conosciuto. L'edificio, addossato alla scogliera, domina una piccola insennatura chiusa da scogli, a cui si accede con un ascensore dalle pareti incessantemente tra sudanti umidità. Il giorno feriale, la fine della stagione, sebbene l'acqua del mare fosse ancora tiepida, avevano svuotato l'albergo e la sua spiaggia. Una cappa desertica era calata sulle terrazze, sul bar, sulla sala da pranzo. C'era soprattutto come un velo, un blocco, una costrizione. Intravidi il padrone nella hall e notai che aveva una strana faccia. I camerieri confabulavano tra loro. Quando Giovanni, colui che di solito mi serve porto al vino, gli chiese il motivo di quel turbamento che avvertivo. Si guardò intorno sospettoso, prima di confidarmi a voce bassa. È a causa di due svedesi, fratello e sorella, due giovani clienti che hanno ripescato stamattina. È una storia incredibile e noi stessi stentiamo a crederci. Proprio loro, che nuotavano come dei pesci. Uno dei due deve essere stato colto da un malore e l'altro ha probabilmente cercato di soccorrerlo. Eh sì, gli annegati vi trascinano sotto, come se lo facessero apposta per non morire soli. Ma che guaio per l'albergo. Mi disse inoltre che i due nuotatori erano stati immediatamente ripescati dopo l'incidente, ma che non era stato possibile rianimarli. Che erano già stati fatti i passi necessari a Napoli affinché il consolato svedese rintracciasse i genitori. Sarebbero sicuramente giunti in aereo, ipotizzò Giovanni. Che le salme sarebbero probabilmente state trasportate nel loro paese per esservi inumate. Che i due corpi erano stati composti nella piccola grotta della spiaggia, perché si era fuori stagione. E più nessuno la frequentava. E persino le cabine dei bagni erano state smontate. Sentii tutto il sangue riaffluirmi al cuore. Resi il mio volto una maschera di indifferenza annoiata e finsi di interessarmi ad altro. È possibile. Mi ripetevo, è possibile. E se è possibile, come? Si trattava di formulare un piano perfetto. In meno di un'ora l'avevo elaborato. Lasciai l'albergo e presi la strada carrozzabile che porta alla cima del monte Faito per attendere la notte. Non potevo nascondermi l'estrema pericolosità dell'impresa. L'improvviso bayar di un cane, l'incontro dei pescatori di polipi che quasi ogni notte vanno a cercare il loro bottino con le lampare, un qualsiasi altro imprevisto, potevano far degenerare il mio progetto in un'orribile catastrofe. Ma ero assolutamente deciso. Bisognava soltanto agire con rapidità e sangue freddo. Nervoso, labile, emotivo nella vita quotidiana, dispongo di una formidabile riserva di calma e di freddezza quando devo rapire un morto. Divengo un altro, straniero a me stesso, pur essendo più che mai me stesso. Sono più vulnerabile, non sono più sventurato. Attingo con me la quintessenza del mio essere. Adempio il dovere che mi ha assegnato al destino. Verso le dieci incominciò a piovere abbastanza forte ed allontanare il pericolo rappresentato dai pescatori. Lo interpretai come un fausto presagio. Due ore più tardi presi la strada di Seiano, il cui imbarcadero è più favorevole di quello di Vico. Lasciai la macchina in un garage di autobus, annerito e rugginoso, con macchie d'olio sul pavimento e sempre aperto perché la porta non chiude più. Là dove si innalzava la villa di Seiano ormai non restano che rare case di roccate, vecchie soltanto di due o trecent'anni. Tutte le luci erano spente, tranne il piccolo faro che all'estremità del molo ogni notte lampeggia ad una luce falsa. Si udiva solo il crepitare della pioggia e la risacca del mare tra gli scogli. Mi diressi verso una barca a remi, un precario guscio di noce che avevo individuato quel pomeriggio. Remai sino alla spiaggia dell'albergo, anche lì tutte le luci erano spente. Non potendo attraccare alla riva scogliosa, mi tolsi i pantaloni, legai la barca a uno spuntone di roccia con una corda, entrai nell'acqua sino alle cosce e avanzai verso la grotta. La notte, la pioggia battente, la voce del mare e soprattutto il pensiero di quel che stavo per scoprire mi inebriavano come un liquore. Sollevai il lenzuolo che ricopriva i due corpi e li portai, uno dopo l'altro, sulla barca. Poi ritornai a Seiano, a forza di remi, il più velocemente possibile. Non avevo ancora goduto il piacere di osservare i miei morti, ma mi erano parsi leggeri come bambini. Ancora una volta tutto si svolse senza imprevisti, sebbene fossi costretto a ripetere l'operazione, e portai gli svedesi sino alla vettura, incontrando tuttavia qualche difficoltà a farli entrare. Erano già rigidi, ma riuscì a disporli diagonalmente sul sedile posteriore, l'uno contro l'altro, nascosti sotto una coperta. Salire in ascensore sino al mio appartamento è stato uno dei momenti più critici dell'impresa. Non lo nego. Lo stesso problema si pone a Parigi, e ho spesso pensato di trasferirmi in una dimora più favorevole ai miei amori. Contemplando i due adolescenti stesi sul mio letto, non ho rimpianto i rischi alla fatica. Dovevano avere 16 o 17 anni, e non avevo mai visto nessuno che potesse guagliarli in bellezza. Si rassomigliavano incredibilmente, senza dubbio erano gemelli. La morte aveva tramutato la loro abbronzatura spruzzata di sale in un oro di un pallore strano, in una sfumatura paragonabile a quella che emana la fiamma di un cero. Entrambi avevano lunghi corpi assessuati, la virilità del giovinetto appena accennata, i seni della fanciulla totalmente assenti, ma infinitamente desiderabili, e che evocavano ai miei occhi non so quale angelica natura. La lunghezza delle loro chiome di un biondo argenteo, l'assenza di sopracciglia su palpebre fortemente rilevate, gli zigomi sporgenti come quelli dei crani scarnificati, e il malva evanescente delle labbra sottili, tutto in loro esprimeva predestinazione alla morte. Le stranei al mondo dei viventi erano stati concepiti per morire, e la morte li aveva appassionatamente segnati sin dall'inizio. Ora che sono in mia presenza, oso appena avvicinarmi alla loro bellezza. Fuori si è alzato un vento furioso che scuote gli alberi di Posillipo. Nuvole enormi galoppano nel cielo. La muta decade passa ululando. 17 ottobre Ho fatto come per Susanne, congedando la donna di servizio e ordinando alla portiera di non far salire nessuno, chiudendo il riscaldamento, creando correnti d'aria fredda. Certo, sono ben lungi dal provare per questi due angeli la tenera fraternità, l'amore che Susanne seppe ispirarmi, ma al loro splendore mi turba, e voglio contemplarli a lungo. 18 ottobre Li ho stesi sul letto, l'uno tra le braccia dell'altra, allacciandoli teneramente, posando le labbra del fratello su quelle della sorella, insinuando il sesso inerte di lui tra le ninfe delicate di lei. Sulla soglia di quella fessura, il cui tenue pallore mi ha riportato alla memoria, quella della bambina Piovra, la vomitatrice di succo nero. Ho voluto che i loro corpi, che di certo da vivi si erano incessantemente chiamati in segreto, finalmente si unissero nella morte, perché io sapevo che loro si erano amati come il cielo ama la terra. E l'uno aveva voluto salvare l'altro, e l'altro l'aveva trascinato sotto. L'aveva trascinato per amore negli abissi, nel sale e nelle alghe, nella schiuma e nella sabbia. Nelle gelide acque del mare, che si muovono sotto lo sguardo della luna, e si agitano come semi. Non era a casa mia che festeggiavano le loro nozze sublimi, ma l'avevano fatto nel preciso istante in cui, l'uno avvinghiato all'altra, avevano esalato l'estremo respiro in una comune estasi, uniti nell'acqua come un tempo nel liquido materno, nel mare come nella madre, uniti nella loro fine come lo erano stati all'inizio. Avevano dunque attinto alla loro verità cosmica, estranea al mondo menzognero dei vivi. Li contemplai a lungo, riconoscente per quello spettacolo come per una grazia. Non ho pensato neppure per un istante di frappormi tra loro, di turbare la loro unione con il contatto impuro della mia carne viva. 20 ottobre. I miei casti propositi mi hanno abbandonato ieri sera per un istante, devo confessarlo. Mi ero seduto accanto a loro sul letto e, come per gioco, ho preso a mordicchiare la nuca del giovane o della fanciulla, nel preciso punto in cui parte dalla base del cranio, di cui sentivo la rotondità sotto il mio labbro superiore. La mia bocca intraprese quasi inavvertitamente un viaggio delizioso, salendo e discendendo dolcemente lungo le vertebre, come se percorresse un paesaggio accidentato in cui le lievi sporgenze s'armonizzano ai più vasti movimenti delle pianure e delle montagne. Passai così dal deserto dorsale a quella valle lombare nervosa e tenera. Un luogo che mi ha sempre turbato infinitamente, prima di avanzare verso la piccola radura arida che precede il giardino delle delizie. Le mani seguivano il viaggio della lingua, come un'indolente retroguardia. Durante questo periplo il mio sesso rimase inerte, poiché per me si trattava solo di una casta carezza. Ma quando le mie dita raggiunsero la valle che si apre sotto le reni, e le mie unghie sfiorarono quell'ultima vertebra, di una segreta saldezza, avendo per osmosi assorbito l'aggressività della pelvi, il desiderio si impadronì di me con una brusca violenza di cui avevo perduto persino il ricordo. Fuori di me insinuai la testa sotto una coscia, erado il giovinetto o della fanciulla, e incollai la bocca nel punto angelico in cui i loro sessi si univano. I loro sessi, due molluschi infantili, dolcissimi, morbidi, ricoperti di quella rugiada che appare sulla pelle dei morti quando la carne sta per decomporsi. L'eccitazione mi aveva fatto piombare in una sorta di delirio, e non appena ho incominciato a leccare appassionatamente il punto in cui i miei splendidi morti si univano. Ho creduto di morire io stesso, e mi sono inondato gemendo. E del tutto inopinatamente, peraltro, perché sono ormai mesi che non giungo più in alcun modo all'estasi. 22 ottobre. I miei angeli irradiano un arcobaleno. Come sono belli. La loro unione, trionfo della morte. 28 ottobre. Di tanto in tanto modifico la posizione dei miei splendidi morti dalle unghie bianche, perché si stanno corrompendo. Hanno aperto tristi bocche d'ombra, i loro colli si piegano come steli di fiori colpiti dal gelo. La loro pelle si fa violacea e verde, le loro membra si deformano. Da gran tempo non sento più l'odore secco del bombice, e ormai è quello di carogna invadere la stanza. Una pozza di quel succo nero che vomitava la bambina piovra si è formata sotto il ventre dei miei angeli. Un inchiostro putrido che attraversa il materasso, gocciò la terra. Un succo pestilenziale che mi inebria come quello della mandragola. Il liquido cola da loro lentamente, come acqua da un'antichissima sorgente. Si inghiozza con voce strozzata alla porta delle loro viscere, sussulta e si versa. I loro occhi si infossano nel cranio, come accadde un tempo a Marie Jeanne, quella deliziosa vecchia. In loro mi sembra di ritrovare tutti i miei morti, sebbene nessuno di coloro che ho amato sia giunto a un tale stato di putrefazione. Neppure il piccolo Henry. 30 ottobre. È già la terza volta che suonano e picchiano furiosamente alla porta. Segno funesto. La portinaia mi chiama. Don Luciano! Don Luciano! Sento parlottì, esclamazioni soffocate, rumore di passi. Non voglio uscire. Non ho mangiato nulla da ieri, ma non mi importa. Ho ancora un po' di whisky e l'acqua del rubinetto, disgustosamente clorata. È vero, talvolta ho l'impressione che i miei angeli si alzino e si aggirino nell'appartamento, quando hanno la certezza che non li sto guardando. 31 ottobre. Hanno appena fatto scivolare qualcosa sotto la porta. Ho chiaramente udito un lieve fruscio. Dalla soglia della camera vedo sul tappeto scuro del vestibolo una punta pallida e piatta che mi minaccia. Una freccia che lega il mio universo a quello dei viventi. Avanzo lentamente, mi piego e tiro, sperando di vederla dissolversi nel nulla, come un fantasma malvagio. Non si dissolve. È un messaggio. Non lo leggerò nella camera da letto, tempio della morte. E neppure nel salotto, ma in un luogo triviale. Il bagno o la cucina. Meglio la cucina. Apro la lettera. So già cosa contiene. Convocazione della questura. È così che da queste parti si chiama la polizia giudiziaria. Per un affare che la riguarda. Ecco un esempio di quel che si può considerare il gergo internazionale, l'esperanto della canaglia. Per un affare che la riguarda. Appoggio la carta sulla tavola della cucina. Lentamente. Molto lentamente. E nell'istante stesso in cui il documento giallastro, macchiato di timbri ufficiali ed editate. Tocca la superficie plastificata. So che in verità c'è un solo affare che ancora mi riguardi. Un affare che mi riguarda. Guardo l'orologio. Tra qualche ora sarà novembre. Novembre. Che mi ha sempre portato qualcosa di inatteso. Sia pur preparato da sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.